Ciao a tutti in questo nuovo video! Oggi ci ritroviamo qua per questo nuovo video Bene, allora, oggi faremo un video sulle cose difficili delle Zero Waste e parlerò per la mia personale esperienza quindi magari se voi state facendo lo stesso percorso delle Zero Waste magari ditemi quali sono le vostre difficoltà dopo appunto, dopo magari aver visto un po' delle mie difficoltà di dirmi se magari ci siete passati anche a voi su questa cosa o se per voi sono altre cose, insomma, fatemi sapere Bene, iniziamo questo video senza perderci in chiacchiere perché non vogliamo fare un video di 70 minuti e cominciamo con le cose difficili per me del Zero Waste diciamo, per quelli che ci sto ancora lavorando anche perché sono cose che ci sto lavorando che magari miglioreranno col tempo perché, insomma, nessuno ci stressa a essere perfetti fin dal primo giorno, ecco Bene, scusate se mi tocca capire le operazioni di essere mercoledì Adams con questi capelli quindi vabbè, allora Prima cosa è l'alimentazione l'alimentazione nel senso che io da tre mesi circa ho smesso di mangiare la carne giustamente vi voglio anche dire che io prima non è che mangiassi la carne così tanto da dire, oh my god, non ce la posso fare però diciamo che prima era molto facile fare quelle cose lazy del tipo mi faccio un piatto di pollo, mi faccio un panino con l'affettato e siamo a posto adesso diciamo che è un po' più difficile fare questa cosa perché giustamente devi sempre pensare, oddio, che cosa mangio preparare magari anche i... è un mazzo, mi vicino, lo ammazzo preparare magari le cose sapere in anticipo cosa vuoi mangiare poi magari siccome la mia alimentazione si basa molto su frutta, verdure, cereali, cose varie diciamo che se vuoi farti un panino devi un attimo pensare su cosa vuoi fare quel panino ecco, perfetto allora, io sono vegetariana l'ho già detto, va che fosse nuovo sono vegetariana non mangio latticini però non sono vegana perché comunque ogni tanto se mi mangio la pizza mi mangio la pizza sto male ma me la mangio lo stesso però a casa io non compro mai 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 latticini non compro veramente niente quindi diciamo che la mia alimentazione si basa principalmente a casa mangio quasi vegano direi ci sono le uova però in mezzo quindi, per questo che ci tengo a specificare il quasi vegano ho difficoltà a pensare a nuove ricette spesso sai, ci sono quelle solite ricette che faccio sempre però non è che posso mangiare sempre la stessa cosa voglio un po' variare vi dico, la mia alimentazione è migliorata molto da quando ho smesso di mangiare le carne perché ho iniziato a pensare veramente quello che devo assumere, come devo assumerlo variare è molto importante però la cosa difficile per me è proprio perché io per saziarmi devo mangiare abbastanza cose nel senso che prima io con la carne mi saziavo perché magari quel piatto di pollo mi bastava adesso quando faccio tutte le cose di verdure buonissimo, tutto quanto, non mi sazio la pasta mi sazia, il resto no quindi ogni tanto devo pensare un attimo come faccio per farmi saziare, per non aver fame e quindi questa cosa è più difficile al lavoro perché ogni volta al lavoro, sempre ti mangio sono sempre davanti al computer, al lavoro e quindi ti viene voglia di sgranocchiare qualsiasi cosa e se non mi porto dietro almeno due snack al giorno rischio di morire quindi diciamo che questa è un po' la parte difficile ma non è impossibile ci sto lavorando, quindi non è così grave un'altra cosa che voglio preparare è questo fatto di dover lavorare su me stessa verso gli altri nel senso che mentre con lui è stato facile perché lui mi ha sostenuto in tutto in tutte le scelte che ho fatto se ho deciso di non mangiare carne anche lui addirittura non mangia la carne a casa se ho deciso di non comprare più latticini a lui va bene nel senso che lui mi ha sostenuto un po' tutto e cerca anche lui di fare il minimo spreco possibile anzi ci pensa anche lui tante volte mentre quando cerco magari di parlare ad amici spesso o vengo ignorata o la gente dice sì sì vabbè ok ma non ci frega un cazzo di niente quindi diciamo che all'inizio questa cosa l'avevo presa male del tipo che sembrava una deficiente nel senso che sembrava una scema che diceva do you want to talk about the environment? o cose simili alla fine nessuno ti ascoltava nessuno ti cagava e ho capito che non devo convincere nessuno a fare questa scelta di vita non devo convincere nessuno a dire oh non dovete andare ad H&M vuoi andare ad H&M? ah men vai ad H&M vuoi mangiare carne? ah men vai da mangiare carne diciamo che ho voluto rendere tante persone più coscienti magari non ci sono riuscita con alcune sono riuscita nel senso ce l'ho addirittura vecchi compagni di università vecchi compagni di scuola proprio che mi scrivono mi dicono guarda magari non ti commento le cose o robe così però sappi che seguo comunque i tuoi consigli al meglio cerco di mettere in pratica queste cose e a me questa cosa fa tanto piacere perché non voglio che la gente faccia tutte le scelte che sto facendo io perché io appunto sto cercando di migliorare ogni aspetto della mia vita non solo una parte però io sarei anche felice se le persone facessero solo una parte perché purtroppo in questa lotta diciamo per il pianeta non serve essere perfetti serve veramente metterci un pochino di impegno nelle cose veramente giornaliere quindi mentre all'inizio la prendevo quasi come una fesa personale perché magari la gente non mi ascoltava o come quasi se non rispettasse rispettasse quello che io facevo alla fine ho capito che non sta a me far capire alle persone quello che devono fare cerco di fare i post su Instagram dove parlo un po' delle cose se la gente legge i papiri bene se la gente semplicemente mette like alla foto ok? quindi diciamo che cerco diciamo di far sentire la mia voce o tramite Youtube che la gente che guarda i video grazie mille per i quelli che li guardate ma quelli che non guardano i video nel senso c'è tanti di miei amici non guardano i miei video quindi capite che non possono tipo prendere spunto delle cose che dico se non guardano i miei video e su un post di Instagram è molto facile mettere semplicemente like ma non leggere effettivamente la descrizione quindi ho solo capito che devo stressarmi meno per gli altri e pensare solo a me stessa appunto di non prendere come una fesa personale perché qualcuno non sta seguendo quello che faccio io nel senso io faccio questa cosa non perché voglio che la gente che mi segue o la gente che mi conosce faccia lo stesso non è questo il discorso è proprio che volevo diciamo educare mettiamo così le persone sulle cose più importanti sulle cose un po' più quelle che si possono cambiare tranquillamente quelle che non ci vuole tanto sforzo poi ho capito che se la persona lo vuole fare lo farà se non vuole farlo non lo farai che io non sono Dio purtroppo e non posso far fare le persone dai comprati la bottiglietta capite quindi ho deciso che anche questa è stata una parte negativa di questo percorso perché sapete ogni tanto voglio anche parlare delle cose tipo oh mio Dio ma lo sai ho cambiato questa cosa ne sono felice oppure oh mio Dio ho trovato un brand bellissimo di cose oppure oh mio Dio oggi sono entrata in un negozio e non ho comprato niente perché sono such better person questo volevo dire nel senso quindi ogni tanto sapete mi piacerebbe parlare delle cose le quali vado fiera in questo percorso ma so che ad alcuni non interessa quindi soprattutto quando sono amici ti senti un po' tipo fuori luogo perché se una persona non segue il tuo stile di vita ti senti un po' fuori luogo e allo stesso tempo non vuoi sentirti fuori luogo perché non vuoi dire oh mio Dio adesso questa persona penserà che non voglio andare con lei mentre lei si sta mangiando la bistecca perché non mangio carne non è quello il punto non mi dà fastidio andare in giro non mi dà fastidio andare in ristorante con una persona che mangia carne cioè non mi metterò a urlare cadaveri cioè non faccio queste cose io ho scelto io questa cosa da mangiare la carne oppure ho scelto io di non comprare fast fashion quindi se una mia amica mi dice voglio andare da H&M a comprare cose io non è chiesto a dire sì però lo sai che H&M sta distruggendo il pianeta nella mia mente magari lo faccio però non lo farò mai oralmente rispetto alle scelte di vita degli altri semplicemente spesso vorrei che magari la gente fosse più cosciente delle proprie scelte tutto qua quindi all'inizio è stata più dura questa parte ci sto lavorando pian piano adesso sto cercando di fregarmi un po' meno e di dire bene se qualcuno avrà bisogno di me sanno dove trovarmi se avranno bisogno di consigli sanno dove trovarmi quindi alla fine ho deciso che questa cosa sì che deve essere una cosa meno stressante perché si deve essere una cosa molto bella quindi non deve essere stressante non deve essere vissuto così male la seconda cosa è il non comprare assolutamente più nulla in imbalaggi e robe questa è una cosa impossibile ve lo dico nel senso che ancora? sì? ok questo ve lo dico perché giustamente non voglio che prendete come esempio quelle persone che hanno il piccolo mason jar pieno di due o tre scontrini dicono questa è la mia spazzatura perché appunto in quel piccolo mason jar ci sono cose che non si riciclano o non possono andare nell'umido quindi non è solo quello che loro stanno creando come spazzatura è giusto per farvelo capire quindi diciamo che ogni volta che io compro cose ovviamente cerco che sia cerco sempre che siano cose magari che io posso riciclare tipo il cartone oppure in vetro ma cerco di evitare la plastica al massimo ogni tanto purtroppo capita che compri qualcosa con la plastica come per esempio i waffle mi piacciono i waffle non li so fare non ho la macchina per i waffle magari prima o poi mi comprerò la macchina per i waffle quindi sì diciamo che ogni tanto sai ho quel pezzettino di plastica che purtroppo è uno spreco non all'inizio ero molto più ansiosa verso queste cose nel senso che prima facevo una spesa e dicevo no questa cosa in plastica non la voglio no 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 però anche questo mi ha aiutato per cercare di magari non comprare più schifezze al negozio evitare di comprare i cacate e farmi da sola i dolci e cose così però adesso cerco di essere un po' più rilassata verso le cose cerco di non mettermi tutta questa ansia di non mettere l'ansia a nessun altro nel senso che ognuno vive la vita come vuole però se io ho voglia in quel momento di comprarmi i waffle mi comprerò i waffle quindi diciamo che alcune cose tuttora creo un po' di spazzatura sicuramente adesso vi dico tiro fuori il sacco della spazzatura fuori forse una volta al mese e anche là non è pieno però diciamo che una delle cose è proprio questa quella di ambire a non comprare più cose imballate solo che ci vorrà un po' perché diciamo che ora quasi tutto è imballato quasi tutto quindi giustamente vi dico io al supermercato quasi non ci vado più però quando ci vado comunque compro quelle due o tre cosine che sono imballate per il resto cerco di comprare il più possibile sfuso ciò per dirvi che se voi state facendo zero waste e non avete le cose sfuse e che quindi vi tocca comprare le cose imballate non sentitevi in colpa assolutamente anzi se volete tipo dei consigli su cose io ho fatto un video con la stronzetti sui negozi tipo come fare la spesa zero waste a un supermercato normale quindi magari lì ci sono dei consigli lì c'è anche il suo video quindi appunto più consigli ci sono meglio è quindi vi consiglio di andare a vederlo un'altra cosa sono i Kleenex sì i Kleenex allora vi spiegherò in casa mia c'è una scatola di Kleenex ovunque ovunque l'unica cosa positiva dei Kleenex è che la loro scatola è cartone quindi almeno quella va nel riciclato quindi i Kleenex hanno la scatolina in cartone riciclata e anche i Kleenex che ho comprato adesso sono fatti in carta riciclata infatti sono più duri sembrano quasi carta più che pazzolettini come sembravano gli altri che avevo prima però sono un problema perché sono un problema perché io li sto usando un po' troppo nel senso io non li uso per il naso io anche quando sono raffreddata non uso pazzoletti perché il mio naso semplicemente se tappa e basta se muore mentre lui in ogni stanza della casa lui si soffa il naso ok è una cosa che ovviamente non sto a no no so che è facile cambiare nel senso si può tranquillamente passare ai pazzoletti riutilizzabili però per l'uso che ne fa lui i pazzoletti riutilizzabili ne dovrei prendere almeno 100 io i pazzoletti oltretutto li utilizzo ogni tanto quando mi trucco perché ho bisogno magari di quel pezzettino di carta per pulire il pennellino e tutto quanto quindi non sto dicendo che ne sto facendo un uso fortissimo potente eccetera ma so che sono anche quelli uno spreco quindi ci sto lavorando un po' su quello per capire un po' come fare soprattutto per lui non tanto per me perché io non li uso quasi mai li uso veramente poco però comunque sono uno spreco quindi o cercherò di trovare magari quelli fatti proprio in carta riciclata che tranquillamente si possono buttare magari o nell'umido o proprio nel riciclo oppure trovare quelli biodegradabili quindi ci sto un po' lavorando su questo aspetto un'altra cosa è la fast fashion no sto scherzando no fast fashion qua non si parla di fast fashion si si parla di fast fashion per dire smettetelo con fast fashion come sempre no sto parlando però riguarda il vestire e il mio problema in questo momento sono le scarpe si le scarpe perché io ho un piede molto strano non ho mai non ho delle scarpe che siano uguali in misura cioè ho le all star che sono un 39 ho le vans che sono un 38.5 e ho delle altre scarpe che sono un 38 quindi il mio piede non è mai uguale poi ci sono anche i tacchi che sono sempre 38 cioè non capisco mai niente io ho un piede molto strano ho dei piedi molto strani e ho molta difficoltà a comprare scarpe online non credo di aver mai comprato scarpe online a meno che non fosse un brand che io conoscessi già la mia misura tipo le all star o le nike o le vans quindi diciamo che le scarpe sono una difficoltà per me è difficile comprare online le cose se io non le ho provate prima mentre con i vestiti più o meno è quello nel senso che più o meno la mia taglia è quella con le scarpe è molto più difficile scarpe e pantaloni sono due cose che forse online non ci becco quasi mai prima per esempio compravo sempre da H&M o da Zara quindi le misure erano quelle nel senso sapevo che c'era la camicetta 36 c'erano i pantaloni 27 ciao siamo a posto so le mie misure mentre adesso devo sempre un attimo vedere mi serve una S o mi serve una Emo o mi serve una XS cioè addirittura l'altro giorno ho comprato da un brand dei pantaloni che io pensavo tranquillamente che una S mi andasse bene mi erano larghi ho dovuto cambiarli con una XS cioè non è possibile non sono la XS la mia taglia non è XS fine quindi insomma anche con l'acqua i pantaloni certe volte però le scarpe restano comunque un problema e ovviamente io voglio assolutamente sostenere i brand sostenibili però spesso è difficile dire che ho il coraggio di comprare quelle scarpe quando non so magari se mi piaceranno se saranno un buon fit se spediscono in Canada vi dico spesso manco spediscono come se vivessimo al capo del mondo beh forse sì che siamo al capo del mondo quindi sì diciamo che quello è un po' difficile per me buttarmi a comprare cose nuove un'altra cosa appunto direte compra l'usato ci rompe le palle con l'ho usato vai a comprare l'usato sì sono d'accordissimo infatti sono riuscita a comprare un paio di scarpe usate che erano un 38 ero convintissima non mi sarebbero entrate le ho provate ok mi sono entrate beh top però quando ogni tanto cerco per esempio l'altro giorno dicevo ho bisogno delle scarpe sportive ho bisogno di un paio di scarpe sportive e le voglio così ok quando si cerca l'usato ovviamente non è facile dire voglio questo 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 perché l'usato è un po' quello che c'è ok mentre quei vestiti dico vabbè c'ho il guardaroba non mi servono altre cose se trovo una cosa carina la compro se no non è grave mentre con le scarpe ero là tipo che cercavo ho cercato su dpop su marketplace sono andata anche nei negozi però purtroppo non avevano mai la mia misura non avevano mai la mia misura e anche spesso la gente su marketplace o su dpop esagerano un pochino col vendere usato ho capito che si vende l'usato però raga non potete vendere un paio di scarpe che sono distrutte perché se permetti non mi comprerò un paio di scarpe che sono distrutte perché mi dureranno altri due giorni e ciao perché se io vendessi le mie scarpe che sono sempre tenute in condizioni ottime e cerco sempre di trattare le mie scarpe al meglio le altre persone non sono così quindi anche questa è una parte difficile quindi magari ogni tanto ci saranno quegli errori che farò nella vita come comprare delle scarpe di un brand che non sono proprio sostenibili solo perché non c'è di meglio so che questa sembra una scusa patetica che è una cosa che dico non è vero che non c'è mai di meglio però proprio per le scarpe è una cosa tremenda ci sto ancora lavorando non sto dicendo che io adesso ho bisogno di 70.000 scarpe però per esempio ho comprato le scarpe per il matrimonio e dubito fosse di un brand sostenibile era un negozio di per matrimonio ho comprato le mie scarpe per il matrimonio perché ho provato a cercarle usate tranquillamente perché la gente che vende le scarpe per il matrimonio usate le monteranno al matrimonio e poi le vendono però tante erano proprio brutte raga proprio brutte la gente ha proprio dei gusti pessimi nella vita e altre erano sempre piedini da principessa io non c'ho il piedino da principessa io c'ho il piedone raga c'ho il 39 quindi sì quindi è stato molto difficile ho fatto molte ricerche prima di trovare le mie scarpe per il matrimonio e purtroppo le ho comprate e sono sicura che non fosse un brand sostenibile quindi sì diciamo come detto all'inizio se avete voglia di dirmi le vostre esperienze se mi dite le cose che ci state lavorando su come per dirvi tanti mi hanno chiesto consigli sulla coppetta altri sul shampoo solido sono due cose che io mi sono trovata fin da subito bene però so che non per tutti è la stessa cosa quindi io ovviamente se avete bisogno di consigli sono qua se avete bisogno di parlarne sono assolutamente qua noi ci vediamo la prossima volta ciao ciao Ciao!